Buongiorno da Las Vegas, il Poker Factor Team è qui per seguire le World Series of Poker 2009. Buon divertimento! Amici di Poker Factor, siamo in taxi, siamo nella Fabulous Las Vegas e stiamo andando all'aeroporto a prendere il capitano del Team Pro di Dottomatica Alessandro Pastura. Lui arriverà alle 14.30, non so se si aspetta il nostro pick up ma noi speriamo di sì e comunque da adesso in poi saremo con lui per raccontarvi tutto quello che succederà sul tavolo da poker e anche fuori. State con noi! Ci siamo lasciati poco fa e dicevamo che stavamo andando all'aeroporto per fare una sorpresa da Alessandro Pastura per fare il pick up e dirgli Willkommen in The Fabulous Las Vegas. La sorpresa ce l'ha fatta lui perché è arrivato prima di quanto noi ci aspettassimo e se ne è ragionato in albergo. Adesso sappiamo che al check-in del Venetian, l'albergo dove appunto alloggia, cercheremo di beccarlo mentre espeta le formalità di rito, nella peggiore delle ipotesi o forse nella migliore, gli faremo un'incursione a sorpresa in camera. A dopo! Siamo al Venetian e stiamo andando a fare un GRT alle pastura dal vivo, nel senso stiamo facendo un catch alle pastura. L'abbiamo, il nostro mangrato ha lisciato all'aeroporto, sappiamo che adesso è arrivato, non so se lo troveremo al check-in piuttosto che in camera, in ogni caso state certi che lo troveremo. Ci siamo, c'è, è arrivato Alessandro, purtroppo non abbiamo potuto fare irruzione in quanto il severissimo Stanley, che qui la guardia giurata dell'albergo non ci ha fatto passare, abbiamo chiamato Alessandro, l'abbiamo fatto chiamare in camera ed Alessandro è arrivato. Quindi, vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, dopo, 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 vieni, 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 ciao. Ciao. Ben arrivato. Ciao. Ascolta, noi siamo arrivati in aeroporto, figuracce, abbiamo fatto, ah, no, se andiamo a prendere Alessandro. Eh, adesso, io l'ho saputo prima. Eh, ma doveva essere una sorpresa, porca paletta. Mi è uscita male, non vi ho visto. Guarda, ti siamo venuti a pizzicare però qui. Eh sì, dai, adesso vi porto su. Eh, ma se tu ci potessi fare questo favore saremmo contenti. Ok. Allora, andiamo su Dale, a dopo. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta, siamo nella camera di Alessandro Pastura, il capitano del timbro di Lottomatica. Vi abbiamo raccontato le vicende, l'aeroporto non l'abbiamo trovato, c'è chi non l'abbiamo trovato, alla fine non ci facciano passare, ci è venuto a prendere lui e ci ha portato nella sua bellissima suite qui al Venetian. Ciao Alessandro. Ciao Francesca, ciao a tutti gli amici. Sei arrivato oggi, come è andato il volo? Eh, sono arrivato oggi, sono partito da Roma, ho fatto Roma-Londra, poi Londra, beh, viaggio tranquillo, rilassante. Ho dormito, ho letto. Hai dormito? Ho letto, sì, ho quasi finito un bel libro. Cosa stai leggendo se possiamo? Eh, Uomini che odiano le donne, quello di Lars. Ancora il primo, dai, insomma, vedrò. Però non è male, ecco. Quindi lo consiglieresti? No. Ok, non lo leggete, fondamentalmente non odiate le donne, non ne vale la pena, anche perché sono cavoli dopo, altrimenti. Ascoltale, Main Event, Las Vegas, non è un evento nuovo per te tra l'altro? Raccontaci qualcosa di questo che per molti è un sogno. Beh, sicuramente è l'evento dell'anno, cioè si gioca tutto l'anno per poter giocare il Main Event. Io spero solo di rimigliorare i risultati dell'anno scorso. Migliorare i risultati dell'anno scorso vuol dire andare a premio, perché l'anno scorso, sai, sono uscito in bolla a una ventina dei premi, quindi sono tornato a casa abbastanza deluso. Quest'anno l'obiettivo è andare a premio. Quindi tifo massimo per Ale Pastura, capitano del Team Pro di Lottomatica per l'Indemone. Magari, beh, non diciamo niente, ma intanto l'Indemone è già un successo. Cerchiamo di andare a premio. Cioè giorno per giorno, dai, si vive la giornata. Day 1 si cerca di arrivare al Day 2, Day 2, Day 3, poi, e poi. E poi chi vivrà vedrà. Lo sa. Ascoltale. Noi sappiamo, a parte che è una nuova esperienza, che tu con il Team Pro di Lottomatica, come capitano e anche come consulente di Lottomatica, stai facendo molte cose. Pensi che ci potrebbe essere nell'offerta Lottomatica, casomai, qualcosa per arrivare a Las Vegas? Eh, ma c'è già, c'è il campionato del 2009 che è il Magnifici 8, e uno dei premi del Magnifici 8 è appunto la partecipazione a alcuni eventi delle World Series per l'anno prossimo. Quindi c'è già la possibilità sul Poker Club di poter combattere per poter arrivare l'anno prossimo alle World Series. Poi sicuramente ci sono tantissimi progetti, stiamo per partire con i satelliti per tante attività. In effetti sappiamo che da settembre ci saranno delle novità probabilmente, comunque dopo l'estate... Beh, le novità cominciano già subito, già da questo lunedì cominciamo con le classifiche a premio per il sito in Go. Cominciamo subito, quindi poi dopo le vacanze ci saranno ulteriori novità con dei fidelity system, con delle possibilità di avere del rig back, delle classifiche un po' più articolate, dei satelliti, insomma. C'è tante carne al fuoco, tanti progetti. Io ti volevo fare una domanda a proposito dell'offerta di Lotto Marica, perché noi siamo abituati che in Italia la domenica alle 17.30 c'è il GRT Ale Pastura. Continua anche quando Ale Pastura è in trasferta? Sì, è domani mattina alle 7 orario di Las Vegas, 17.30 italiana, io giocherò, infatti mi sono già iscritto, così almeno anche se mi sveglio 5 minuti dopo almeno sono iscritto, ma sicuramente sì, vi gioco ancora. Quindi levataccia, cioè Ale, per non deludere i suoi fan, per non deludere i suoi giocatori, fondamentalmente per tenersi in allenamento. Domani mattina alle 7 ore italiana, anzi alle 7 ore di qua, 17.30 ore italiana, fatevi sotto perché secondo me sarà stanco morto, quindi è possibile che questa volta qualcuno riesca a beccarlo. Sì, poi magari è l'incontrario, visto che sono stanco riesco a... di solito mi fanno fuori subito, non ci so mai. Non la sapevo questa cosa che di solito ti fanno fuori subito. Sì, ma sono una chiavica, io non dirò nessuno. Sì, non si dicono che adesso ci studiamo. Ah, le programmi per la giornata, visto che oggi non è il giorno di torneo per te? A parte che sono un po' stanco, però visto che sono qua non posso chiudermi in camera. Andrò a un party al Caesar Palace, dove magari ci raggiungerete anche voi di Poker Factor stasera verso le 7.30-8, ce n'erò lì, poi mi farò un giro e poi dormo, visto che domani mattina alle 7 ho la levataccia. Ragazzi, a me questa cosa delle 7 mi sta traumatizzando, ve lo posso assicurare. Comunque ci vediamo questa sera, spero che ci permettono di fare delle riprese al party, altrimenti sul... Assolutamente sì, andiamo... è un bel club che c'è al Caesar Palace, c'è una festa organizzata dal mio amico Marco Trucco. Andiamo lì a questa festa, sicuramente riusciremo a fare un po' di ripese. Allora noi ci aggiorniamo a questa sera e alla prossima, ciao! 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 Grazie a tutti.